bene ha iniziato a registrare benvenuti ciao sabrina e ciao daniela chi ha già il microfono silenziato come sempre ti faccio un conteggio sabrina da 10 a 1 e durante il quale se non c'è già connessa a daniela ti connetti a daniela 10 l'omore 8 7 6 5 4 3 2 pesante dimmi sabrina se vedi daniela si la vedo di scena un po praticamente quello che vedo è che viene mi sta mostrando questa cosa qua mi viene bastonata un bastone da qualcuno stavo cercando di capire un po meglio però la vedo da lontano questa scena che mi sta mostrando si dille di avvicinarsi di darsi di darti il suo consenso ora si avvicina però è un ragazzo con c'è maschio con un vestito camicione lungo dei pantaloni larghi tipo stracciato strappato con un bastone in mano si avvicina così mi sembra lei un'altra vita come se mi sta mostrando un'altra vita ti dà il consenso se mi annuisce con la testa per sicurezza sabrina tocca l'uomo e vedi se sabrina in una vita precedente ciao rettile dietro di questa immagine non riesco a capire bene se il rettile o l'immagine o è lei che viene disturbato al rettile ok siccome tu hai l'autorizzazione diciamo questo rettile di staccarsi di mettersi da un lato anzi di entrare subito in un portale definitivo perché non abbiamo ora voglia di stare dietro ai rettile di verde tempo chi mi sta facendo verde tempo è entrato il ragazzo l'aperto il portale bellissimo toccarlo e dimmi se è daniela e lei in un'altra vita come si chiama miliani angelo angelo qui nella vita di angelo e nelle bastonate che prende angelo cioè la causa esoterica della sclerosi multipla di daniela guarda sinceramente mi sentirei di dire di sì perché da prima che come sempre mentre già contiamo inizio a vedere già e mi sono vista tutta questa scena e mi stava facendo venire da piangere proprio come se provasse un forte dolore stavo cercando di capire un po meglio la situazione però si è un qualcosa che si porta cioè lei mi sta mostrando questa vita perché comunque un significato che si trascina ora vedo mi mostra un villaggio dove c'è una sorta di mercato ci sono delle tipo bancherelle banchi che vendono da mangiare il cibo e lui come se lo rubasse cioè lo ruba e scappa via vedo la scena di questo ragazzo con questo vestito insomma stracciato ruba e scappa via ruba delle mele ruba della frutta della verdura e scappa via e quindi la scena successiva è come se lui per per mangiare poi lo vedo che arrivano non posso dove ci sono altri credo sia la sua famiglia di questa scena per ruba quindi da mangiare per portarlo a casa però viene inseguito e spesso facendo spesso questa cosa viene viene picchiato vedo questo mi mostra questa scena qua questa è la sua famiglia lui ha un figlio no lui è giovane c'è questa vita la vedo tipo ventenne è come se fosse se lo portasse a casa dai dai suoi familiari vedo fratelli genitori se vedo la famiglia numerosa i genitori i fratelli non possono procurarsi cibo lavorare guadagnare e comprare il cibo mi viene che è una famiglia molto povera e quindi lui cercava di rubare per portarlo a casa per portarlo per far mangiare la famiglia vede una famiglia non benestante comunque povera in questa vita qui sofferente comunque va bene enti vedo un po di gente stavolta allora e vedo un altro rettile poi vedo delle mantidi mi escono insieme due draghi proprio draghi e forma di drago quindi non rettile ma poco draghi verdi grandi grossi con le ali si prendono il fuoco mentre dicevamo si l'ho visto proprio il tipico drago scudafuoco con le ali grande verde due se ne stanno poi è strano che salta vedo un serpente non lo vedo proprio un serpente accanto a sti draghi vicino a loro vedono un serpente proprio cercante terrestri tranne le mantidi finora sono solo rettiliani i rettiliani sono la base se la piramide saliamo chiamiamo tutte le entità più importanti dalle più nascoste almeno nascoste immagino proprio una piramide no vai fino al culmine passando chiaramente dalle fasi intermedie solti i rettili poi ci sono le mantidi i draghi le mantidi e poi mentre parlavamo sali ho visto un qualcosa di robotico una sorta di umano robotizzato c'è un umanoide con la faccia da robot comunque artificiale è totalmente artificiale no 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 di che tipo io allora è mischiato non lo so vedo qualcosa completamente artificiale quindi poco creato di nessun tipo di macchina macchinoso come posso dire sì proprio una macchina vedo proprio c'è un aspetto se stelo se mi distacco un attimo vedo anche qualcosa di assomiglia al corpo umano diciamo quindi pezzi di sale braccia le vedo poi vedo le mani però robotizzate la faccia robotizzata robot le braccia umane sono di carne o sono di sintetiche che sembrano avere che sembrano però se le percelli a vederle sembrano vere ma se guardo dentro vedo proprio un pezzo di ferro quindi proprio un robot robotizzati quindi agli asseri finta se se proprio degli esseri robot come si chiamano questi robot mi viene un nome strano alcuni mi ha detto questo alcuni che sono i capi degli alcuni mom è uscito un accanto a questo qui quando abbiamo detto che sono i cavi mi si fa con i forme invece ok grande grosso con una coda lunga mi sembra per una fenice assomiglia molto una fenice capo della fenicia è l'uomo barbudo e l'aquila sopra sopra sempre loro ne ho fatta mi viene più l'aquila ci amiene più di no nel senso mi sembra più una cosa diretta da lui piuttosto che edl ha nascito uno dalla gamba destra e uno dalla testa dalla fronte da qua quando lo diciamo escono sempre fuori ce faccio a volte si nascondono proprio come se stessero proprio dentro però quando poi lo dicevamo devono uscire dopo perché una volta che uno poi li nomina come se gli abbiamo fatto da una escono così mi escono proprio dal corpo quando più di dieci anni fa daniela sviluppa la sclerosi multipla andiamo al momento in cui inizia la malattia a livello esoterico cosa succede allora ho visto due cose diverse subito abduction ho visto lei che viene che gli viene qualche cosa ha iniettato qualche cosa all'intel alla fine della schiena vicino al cocci c'è lì come quando si fa un epiturale non so se rendo l'idea che si addormenta facendo una puntura in un punto ben preciso lì quindi mi è venuta subito questa cosa e vedo delle mantidi che non fanno questa roba qua e poi mi è venuto il collegamento forte lo vedo proprio da quando abbiamo cominciato con le bastonate quindi con questa questa vita queste bastonate sulle gambe che comunque sulle gambe se se sulle gambe come se lo bastonavano sulle gambe per non farlo più esatto 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 l'hanno gambizzato se l'anno ci sono riusciti ora se vado un pochino avanti qui mi mostra lui su una sorta di sedia a rodelle però non è c'è una sedia e non è una sedia a rodelle come l'antendiamo noi parliamo siamo siamo nel mille siamo nel 1400 una cosa così cioè siamo più sono povere quindi si vedo una sorta di una specie siamo nel punto in cui c'è questa abduction daniela viene presa c'è il parallelismo con la vita di angelo si contemporaneamente facendo una ricetta non stiamo facendo trovando la la ricetta di daniela di fatto l'ultimo elemento mancante è il patto contratto che lei firma per con se stessa con entità si ma di fatto con se stessa dove c'è scritto cosa relativamente alla sclerosi molti che non deve camminare miliane non deve non deve muoversi perché lei non vuole camminare è strano perché mi vedo questo ragazzo che mi dice che io volevo provare questa esperienza però mi dice così era una cosa che voleva provare la perché deve provare anche daniela apse la stessa chiaro e se la porta qui non se l'è come se sarà trascina da un che poi come sempre diciamo come le vediamo non è precedente ma io la vedo sempre parallela le vide insomma che vediamo è come se lei in questo cioè come se lei stesse lì stesse provando quel quella situazione e quindi si ripercuote nella vita di oggi ok bene facciamo una cosa bellissima nuova una grande novità la parte subliminale di daniela e di angelo è la stessa la parte tecnica di angelo di daniela è la stessa no ok metti le due parti eteriche una di fronte all'altra che si guardino angelo versus daniela e la domanda sul piatto è what the fuck cioè e che cazzo perché perché angelo che ha una parte eterica che evidentemente ha messo anche lei un consenso deve influire nella parte eterica di daniela e lui mi dice lei la ps come se mi sta dicendo però sto anche lì ho scelto io sto anche lì e sto anche qui quindi è normale che quello che faccio da una parte mesi ripercuote e qui e di malestiere che cosa dicono quella di daniele d'accordo no si adatta ricorda la parte eterica di daniela che è più importante lei della parte subliminale parte subliminale è una forma di parte eterica un po diversa ma di fatto è una parte eterica sì quindi non c'è il meglio il peggio siamo sullo stesso piano mentre la parte eterica spesso viene usata dalla parte subliminale come in questo caso sono tutte informazioni queste che do alla parte eterica di daniela un po anche quella di angelo non vedo che si litiga ci avete questi due parti dati che le vedo come due nuvole di luce bianche c'è due spiriti di proprio e vedo che come se litigano se non solo se sono in disaccordo vedo questo quando mentre dicevi questa cosa che dicevi che avanti vediamo cosa fanno strano si mettono una quella di angelo si mette seduta sulla sedia a rodelle che strano questa scena e quella di daniela invece rimane rimane lì e se lo guarda c'era mi sembra come se una sta dicendo all'altra non abbiamo capito niente cioè di soli dirige proprio un conflitto e di mezzo poi c'è ovviamente la ps va bene ci sono quanti vite precedenti ha avuto daniela 2.250 tante cause esoterica da parte di daniela del vedere di avere una sensibilità diciamo con visioni percezioni per esempio di vedere visi delle persone che cambiano mentre conversa con con loro cambiare in visi di alieni visi di robot e così via gli altri in quei momenti perché ero lì quando lo stavi dicendo è come se lei vedesse le interferenze degli altri visto chiaro come se lei riuscisse comunque a leggere a vedere le interferenze degli altri proprio quindi vedersi effettivamente l'interferenza della persona che c'è davanti e quella è la causa esoterica mi viene questo come se questo suo questa sua problematica e che ha in questa vita gli toglie qualcosa che va a rimettere da un'altra parte come se avesse acquistato più sensibilità cioè sembra quasi che gli servisse per questo lo sto costruendo anche io perché molto particolare questa questa cosa che vedo me la ripeti allora è come se c'è la causa della sua sensibilità di quello che lei vede diciamo della sua sensibilità come se lei avesse comunque una connessione cioè riuscisse a vedere come se ci mettesse degli occhiali riuscisse a vedere interferenze degli altri vedo questo ed è come se sia dovuto conseguenziale al discorso della sua malattia che gli leva qualcosa ok e che come se una come si dice come un cieco che poi magari siccome non vede riesce a sentire più i sapori ma solamente altri sensi esattamente difficile spiegarlo perché molto se anche per me non è facile vederlo però la sensazione è questa qua ci mi arriva quindi i tre esempi che ha fatto le persone con la faccia di robot allieste veramente la persona che andava nel buio un campo e la visita ma la disincarnata ok già da prima mentre lei lo stava raccontando l'ho visto però è un disincarnato quello che ha visto ce l'ha visto veramente no non passava e basta un percenso non so va bene causa sottile che dalla paura della grande fobia per i ragni mi viene da dire che la sociale mantidi lei questi cioè lei in qualche maniera vede ovviamente ha delle percezioni e non so anche forse mi viene da dire anche nei sogni come comunque normale che succeda a chi un pochino riesce a diventare più consapevole e quindi la socia alle mantidi ali abduction particolarmente vedo le mantidi intorno a lei spesso fobia delle mantidi ovvio fobia degli scarafaggia analogia stessa cosa si li associa comunque a loro ok daniele grafologa ma non riesce ci sono sempre degli impedimenti a far diventare questa sua passione di alun gambe o testa testa e di allen testa la rallenta proprio perché beh perché se lei si realizzasse se lei comunque facesse qualcosa che la realizza aumenterebbe la sua vibrazione e sempre siamo lì aumenterebbe la sua consapevolezza e che non sarebbe più non permetterebbe più certe cose quindi è sempre un modo di rallentamento di blocco no per non farla aumentare di vibrazione per non farla essere felice quindi è tutto conseguenziale c'è una connessione tra negativa tra lei e la madre cioè la madre la veramente ostacolata in vari modi o questa connessione non c'è a me viene da dire entità sinceramente da dire sì mi sembra come se lei mi viene questa cosa qui come se lei s'avesse avuto sarà un buon rapporto con la madre automaticamente che poi anche ovviamente una cosa mentale si tranquillizzasse e quindi fosse tutto un conseguenziale di di cose positive tra virgolette di cose di vibrazione alta quindi questa cosa della madre come se la rallenti quindi serve con questa condizione c'è tutto quello che c'è intorno la madre e la malattia sia tutto un nesso per tenerla in una condizione di oggi insomma che serve in questa maniera ecco mi viene questo la madre faccia parte di questo quadretto quindi tutti gli aspetti il fatto di non averla voluta il fatto di averle evitato tante cose il fatto di averla spinta verso un marito che poi si rivedeva rivelò violento che vanno sbagliato e così via a libido non voglio andare non so analizzare la madre però quando abbiamo detto la madre ho visto anche lì ovviamente le sue interferenze quindi ha le sue cose però come se lei avesse scelto una madre così per un discorso di decisione di fare questo tipo di esperienza quindi che si fosse servisse per tenerla in questa condizione una madre molino bianco non avrebbe portato lo fa questo intendo il giorno prima di nascere il padre di daniela sceglie no allora padre daniela sogna il nome daniela ok mentre il nome doveva essere un altro c'è una causa esoterica la vedo anche lì ce l'ha la connessione che dicevamo che c'è una vita c'è una collegata a quella personale al nome che non diciamo che doveva essere ho visto l'ho visto subito sì come se mi viene da dire proprio che c'è una vita che lei ha fatto sta vivendo in quel contesto lì è legato ai rettiliani mi viene quello della regina sì che appunto il nome se daniela è quello di una regina quindi avendo dato il padre il nome daniela a daniela gli ha dato il nome di una regina che è una vita parallele ma non è un caso sì cioè non è lei ma è collegata a lei e lì c'è sta vedo una la vedo con questo vestito la vedo dentro un palazzo la vedo collegata alle comunque c'è un collegamento con questa quante connessioni ci sono con 2.200 e passa vita tantissime infatti è poco importante quello che lei diciamo sentiva la lo vedo c'è comunque causa esoterica delle paure ma allora mille cose intanto gli edl che comunque lavorano tantissimo sulle sulla sulla parte mentale no mentale emozionale ovviamente che lo mi viene da dire che lei di fondo in questa condizione è ovvio che le abbia e le dl ti amplifica comunque un'emozione che tu già ai venditi ci dà proprio la la botta finale in dl sicuramente tanto e poi comunque anche legata a questa vita qui perché lei me l'ha mostrata quindi credo che si c'è comunque una vita mi ha mostrato quella che comunque quell'emozione di diciamo di scappare di paura di io sentivo proprio dolore mentre facevamo il conteggio mi ho sentito proprio le bastonate quindi insomma derivano comunque da tutta questa condizione che lei fa anche in questo momento vivendo lì viene questo è tutto collegato causa esoterica delle ansie stessa cosa il senso di colpa ma il senso di colpa una conseguenza cioè avviene sempre comunque sì le dl tutto quello che sta sempre legato alla stessa motivazione tutto collegato sensi di colpa paura ansia paura di non arrivare a ma è dovuta da tutto questo antefatto che abbiamo detto prima c'è una conseguenza causa esoterica dell'insonnia e spesso del risveglio in piena notte in corrispondenza di un'ora che è un numero doppio 1 1 2 2 a base è sempre così il numero doppio di notte significa abduction mi viene da dire che adesso ho visto le 222 non lo so mentre mi parlavi mi viene da dire che si spesso e volentieri come se in quel momento si aprissero dei portali c'è come se loro beccassero queste cifre ho visto proprio un'apertura di un portale di trapasso tra da loro a noi quindi sì ma tanto di sì se uno all'orologio mal sintonizzato e quando sono le 22 segnale 220 loro arrivano lo stesso cioè da cosa dipende il portale da allora che uno ha il comodino mi viene che come se lo allineano loro cioè come se c'è un allineamento temporale vedo proprio delle linee ogni in questo momento adesso mentre dicevamo cosa succede ho visto proprio un tipo delle meridiani e paralleli proprio che si allineano in una certo numero che diventa 222 adesso è riuscito questo e fa sì che si scocca una scintilla che si apre proprio un portale che è indotto comunque da loro quindi in realtà sono loro che che portano l'orologio a quell'orario non lo so mi viene da dire che se tu orologio fare i 220 lo so lo portano loro cioè sono loro e comunque lo creano creano la condizione causa esoterica dell'insicurezza stessa cosa tutto conseguenziale tutto collegato a tutto il nostro antefatto tutto quello che abbiamo detto causa del mare dell'ansia che ha uscendo di casa di non riuscire a trovare un bagno e questo dall'inizio della malattia quindi dieci otti anni fa ma la mi viene da dire due cose la prima è legata alla vita di angelo cioè lui comunque quella vita lì ha il senso di ogni volta che come la scena che mi ha mostrato prima usciva di casa per andare a cercare il cibo lo rubava aveva paura perché comunque sapeva che poi sarebbe accaduto quello che comunque doveva scappare a quelle a queste persone che lo bastonavano che tentavano quindi di di metterlo a terra e che poi nella vita io prima l'ho visto ci sono anche riusciti quindi è legato a questo ricordo molto forte e poi a un impianto medoni centano le abduction è un impianto lì sotto quindi una doppia cosa sia la paura di quella vita e sia un impianto vediamo lì impianti tutti allora come abbiamo detto vediamo gli impianti ho visto subito due lastre sulle gambe proprio due lastre di ferro proprio tutta la gamba quindi di solito vedo una cosa piccola più limitro fa adesso l'ho vista proprio su tutte e due le grande poi un vedo come un dove avevamo detto prima dove si fa le piturale io dico chiedo la schiena esatto orsaco come se c'è un qualcosa impiantato come se loro si attaccano tipo una spina mi viene ok jack sembra così come quello che si mette attaccato al braccio per attaccare e staccare la flebo si più più meccanico le dopo più più tipo già ferro sì esatto certo termina testa dove proprio sopra scusate ho sentito un qualcosissimo no tranquilla successo tranquilla tranquilla ok è solo scritto una cosa da nero ma vedere ha fatto in effetti un esame al sacro tutto bene stavolino sì 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 no sentito un rumore strano sul computer e pensavo fosse cascato tutto scusatemi quando una persona scrive strano che presenta un rumore ma se lo dovessi risentire non ti preoccupare hai davanti fatta che li vado un attimino guarda dall'alto e il corpo energetico di daniela e rivediamo tutti gli impianti riprendi con gli impianti allora sì le gambe abbiamo detto il coccige l'abbiamo detto la testa e poi vedo come delle delle palline all'interno del dell'ovaia all'altezza dell'ovaia qualche cosa lì basta quello delle ovaglie perché ma che serve per l'esportazione degli avuli che a volte viene fatto nelle abduction durante l'abduction quante sono le abduction più o meno al mese 9 prima della malattia di meno mi viene di meno come si chiama questo progetto strano viene mantis cosa abbia un significato mantis montis c'è un secondo nome avvenuto montis robot una cosa del genere strano mantis montis robot ea che serve perché daniela vuole fare questa esperienza l'abbiamo capito c'è una vita precedente ci sono i contratti ci sono i fatti ma l'estima che sarà tra sedere la sua mani si si mi è venuto così va bene causa sotto i ricardi il freddo specialmente alle gambe e lastre di ferro impianti ho visto prima ho visto proprio come te le lastre di ferro legisla muscolare vabbè è ovvio conseguenziale però il freddo è dovuto tanto a questa roba di ferro che io vedo proprio ferro freddo ok prima di lavorare con daniela definitivamente chiamiamo il disincarnato che lei ha scelto che è un po originale perché è un personaggio famoso trattasi di leonardo da vinci con cui lei sente una particolare affinità un giorno parlava di questa affinità no lei ha visto una macchia in un muro a forma del viso di leonardo da vinci ne ha parlato con un'amica tempo dopo l'anno dopo proprio il giorno in cui nacque il 15 aprile nacque senza l'anno ovviamente leonardo da vinci chiamiamolo vediamo se si presenta qualcuno è strano perché vedo la sua faccia di come la conosciamo dai dipinti dalle foto e dietro vedo zeus leonardo da vinci aveva una parte subliminale viene da dire tante non era sua me ne aveva una sua ma ne utilizzava tante ne metto tante viene a dire questo questo anche oggi e tutti quelli che lo erano immaginano non ho capito scusami non ci ha sentito le parti subliminali di tutti quelli che lo ammirano o di chi quello che mi viene come se lui fosse stato avesse la sua parte subliminale ma come se fosse un contenitore con altre parti subliminali che hanno voluto fare l'esperienza dentro di lui insieme insieme mi viene questo come se fosse un contenitore di più anime cioè non ne aveva una sola mi viene questa cosa così causa della macchia sul muro daniela sostiene che fosse un portale mi viene da dire zeus che da dietro da prima che sta là dietro mi viene da dire come se fosse collegata a zeus lei cioè leonardo da vinci sia un tramite mi viene questo abbastanza anche come fisionomia di come li sto vedendo io quindi mi sembra che il collegamento se l'abbiamo zeus più che il con e quindi e zeus che ha fatto venire in mente a daniela di parlare alla famiglia di leonardo da vinci il giorno 15 aprile leonardo è attaccato alla terra no no non lo vedo proprio qui diamo le informazioni di tutte le mie sessioni a tutte le parti subliminali non di leonardo da vinci attaccate intrappolate il leonardo da vinci strano sorta l'informazione la vedo sono e non so se si trasformano in palloncini le informazioni questa volta non so se è una cosa che dipende da da daniela comunque vedo palloncini vedo palloncini che vanno che volano in aria sì che volano in aria e che vengono comunque è come se ogni volta che una parte subliminale lo buca è come se venisse sommersa da l'aria che esce dal palloncino fosse l'informazione mi viene mostrata così questa volta sì bello se vai un po avanti di me se si staccano da leonardo e tutte le parti subliminali quante sono le non sue ovviamente viene da dire 70 71 con quella sua se ne sono staccate no adesso 35 ne vedo liberi poi un po avanti 50 continuo a vedere parti subliminali che bucano palloncini ne rimangono 10 miliardi non vanno via si ommergiamo le di palloncini mi sto moltiplicando ok vedo queste dieci parti subliminali che sono contornate da palloncini colorati e iniziano a bucare palloncini ne rimangono due sole che sta a restire vabbè non fa niente sentiamo se leonardo da vinci ha da dire qualcosa a qualcuno di noi tre teme o daniela mi sta dicendo che tra un po riscende lui mi dice solo questo voglio riscendere giù cosa diventerà mi dice imprenditore l'azienda devo bene se voglio fare l'imprenditore è interferito secondo te sabrina lui sì 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 assolutamente sì diamogli tutte le informazioni delle nostre sessioni sempre con i palloncini sommerso di palloncini anzi lo lasciamo così lo rivediamo alla fine va torniamo da daniela ed iniziamo con il corpo emozionale abbiamo visto che ci sono sensi di colpa ansie paure immagino tristezza forse rabbia tutte queste emozioni a bassa frequenza hanno un coloro una forma una consistenza un'ubicazione che adesso non ci importa elencare tutte le vedi allora adesso ragazzo angelo si è lo vedo come lei quindi con la fisionomia di oggi quindi si mostra come oggi daniela ma sai che angelo si angelo e lei però prima la sua parte subliminale mi si mostrava come angelo adesso mi sim quando abbiamo detto di parlare della del corpo emozionale mi si è aperta lei proprio lei vedo lei di oggi strano c'è la modalità palloncini questa sessione vedi palloncini e lei mi fa vedere dei palloncini imprende dei palloncini piccoli se li prende se li toglie sono tutti neri sono tutte le emozioni di bassa frequenza quindi li può buttare li può buttare in un portale li puoi scoppiare e buttare in un portale lasciando il contenuto e il contenitore cioè il palloncino la plastica il contenuto quello che conteneva il palloncino dentro il portale può fare quello che vuole allora mi fa vedere stupare questi palloncini neri che corrispondono a tutte le emozioni a bassa frequenza apre un portale aspira palloncini c'è un portale che c'è del vento lo vedo me lo apre così che aspira questi palloncini che lei e butta tutti via tutti i palloncini neri che vanno via e se li mano a mano in questo processo se ne leva ancora se ne leva ok li allevati buttato via tutti i palloncini neri fatto sì ok prima abbiamo parlato di un contratto andiamo nella zona in cui ci sono i contratti andiamo al cluster lei mi porta in una stima un sotterraneo non lo fa vedere così l'accompagna da se qual cluster mi apre una porta di ferro la vedo molto di solito lo vedo più sfocato invece la vedo molto più nitido me lo mostra più nitido apre un sotterraneo dove c'è una porta di ferro entriamo lì vedo questa stanza di ferro mi mostra con tutti lastre di ferro come se fossero scritte e lei mi dice che questi sono i suoi contratti me li mostra lì e davanti però stavolta vedo anche un'altra cosa davanti all'entrata del di questa porta di ferro c'è un essere con un'armatura come che come se fosse guardiano diciamo quello che non vorrebbe noi entriamo anche se siamo già entrate una mostra così dire di mettere il guardiano in un portale definitivo di analizzare tutti questi contratti e di se vuole eliminarli come sempre le vite vengono conservate le esperienze delle vite così faticosamente accumulate vengono conservate bene solo fatto tabula rasa dei contratti in modo che queste esperienze non abbiano più ragione diciamo non abbiano più un sostentamento futuro ok mentre parlavamo parlare ha già preso il guardiano e l'ha buttato subito dentro questo portale a vortice che risucchia proprio quindi il guardiano è andato adesso prende tutte queste lastre di ferro che sono pesanti perché sono proprio scritte su delle lastre di ferro e le butta comunque tutte via e butta via nella la stanza adesso è buona il sotterraneo vuoto fatto fatto nel suo cluster c'è qualcuno della vita attuale madre marito e poi come sempre vedo tante tante anime che però non riesco a distinguere perché adesso come se vedo due madri c'è che potrebbe essere la madre di un'altra vita magari vedo avere no no sì sì ma chiaro nella vita di angelo c'è quello che oggi è l'ex marito di daniela quello che gli dava le bastonate era quello che dove lei lui rubava maggiormente la frutta mi viene quindi lei andava in questo banco e questo qui non riempiva di bastonate ogni volta che tipo di frutta mele mele visto tante mele subito fichi e poi delle verdure delle insalate sembrano cosa sta facendo leonardo ha mangiato i palloncini li ha scoppiati mentre dicevi cosa sta facendo lo vedo che vuole sta volando con questi palloncini mi mostra questa scena ancora non tutti flucco ma noi palloncini non li ha presi tutti questo esatto con questa condizione dei palloncini tornerà come imprenditore sulla terra il semplice più difficile uguale mi viene da dire che tornerà però forse no come imprenditore però vuole sempre tornare vuole tornare a fare l'esperienza fisica mi dice ma come so perché lui conosce così tante cose massone vuole stare dentro un corpo fisico che lì non sta bene mi sembra come se sta in un posto tipo una terra di mezzo non lo so mi viene questo ma se fosse incastrato è come se ti riscendere fosse per lui una scappatoia da una condizione va bene sabrina andiamo all'avatar ok e andiamoci come ps di daniela e come tutte le singole parti eteriche di tutte le vite precedenti di daniela ok siamo tutti lì che succede è come se vedo l'anima la parte subliminale che che fa mettere a star una scena particolare fa mettere le sue parti eteriche intorno all'avatar me la mostra così cioè come se lei dirige le sue parti eteriche dice ok guardiamo tutti facciamo questa cosa tutti insieme viene questa cosa qua molto popolato questa avatar e che fanno aprono un portale il portale lo apre l'avs e loro insieme all'anima prendono un boccetto che conosciamo prendono il computer prendono strano perché quella l'avatar lo vedo da seduto su una sedia a rodelle prendono una sedia a rodelle prendono le spine la scrivania e tutti insieme insieme alla psp e lp e insieme buttano tutto via nel portale a vortice d'aria fatto la ps buttaria la sedia a rodelle personalmente fatto ok con questa condizione e la condizione della del cluster ci sono ancora impianti no ci sono ancora i due dl o quelli che erano identità no non c'è più niente hanno fatto insieme tutte le parti eteriche insieme all'avatar levato tutto c'erano dei cloni te lo stavo per dire mi è venuto due te lo stavo per dire messo mi ha detto no no ok ad action mantidi ragni scarpaggi no è pulita adesso questo momento è pulita con questa condizione la vita di angelo che esiste e se sì in che modo sinceramente non la vedo più quando mi ha detto se esiste lei mi ha detto di no scomparsa non c'è più no è come se non è una cosa più che vuole provare come se c'è stata iniziata finita non è più parallela non sono strano quindi le vite non sono più 2250 ma 2249 o meno a me viene che possono diminuire in questo momento se c'è come se lei avesse fatto quell'esperienza e la eliminasse come cioè rimanesse l'esperienza l'insegnamento ma non la il dolore della vita mi viene questo leonardo dove io vedo che sta in un posto in un posto tra mi viene terra di mezzo mi dice così dice io sono una terra di mezzo i palloncini hanno mangiati tutti li ha bucati tutti se fosse un incastro in posto che è tra di qua e di là come se ne riuscisse cioè non è legato alla terra ma sta in un posto mi dice terra di mezzo non lo saprei definire diversamente strano ok c'è un messaggio che la ps ma anche la pie di daniela vuole lasciarsi è carino perché lei adesso mi sia mostrarmi fa vedere è una bambina una bambina un bionda con i capelli lunghi si mostra così adesso e che si è alzata da una sedia e che gioca a corda mi fa vedere che gioca a corda e salta la porta salta la corda così gioca con la corda è stata la corda dice io adesso voglio saltare mi dice questo io adesso so che posso saltare però prima mi dice devo alzarmi dalla sedia mi alzo dalla sedia imparo alzarmi dalla sedia a muovermi e poi so che salto io adesso salto e mostra mi si mostra come una bimba che gioca con la corda poi fa quei giochi tipo campana tutti i giochi che che utilizza le gambe quindi adesso fa la campana i salti sui quadri sui riquadri il gioco della campana con queste nuove condizioni c'è un messaggio della parte subliminale vuole lasciare alla parte fisica che sta e mentale che sta ascoltando di daniela circa la malattia la bambina mi sta dicendo dice io adesso ho imparato dice come se adesso l'insegnamento l'ho preso esperienza è fatta però adesso devo saltare devo credere che io posso saltare perché io posso saltare però prima non lo sapevo saltare la porta camminare in maniera fluida questo la dice io non lo sapevo adesso lo so e se io lo so la mentire ci può credere andare in montagna tutto e tutto tutto e tutto tu puoi parte tutto da te vuole esaltare vuole fare mostra questa cosa mostra una bambina felice salta la corda poi si alterna gioca a campana fa i salti che si incrociano le gambe fa questo cioè col piede a destra o a sinistra e viceversa ok che quel gioco con i numeri scritti col gesso per terra con l'esatto esatto per qualsiasi per in ogni ragione si dice in un modo diverso cosa si chiama sì ma non so in italiano come si dica va comunque quel gioco lì quello di gesso va bene e tu come la vedi bene questo momento molto bene livello di consapevolezza 170 per cento rapporto tra psp pie 52 ok luminosità 2 miliardi migliori vibrazione qualcosa che vuoi aggiungere tu e che stai vedendo è carina la scena della bimba che mi sta facendo è come se lei mi vuole far vedere a me che lo sa fare che lo può fare in realtà secondo me è lei che vuole dire a daniela guarda che io tu puoi saltare ma lo fa in maniera molto come dire emotivo insomma come se mi stai dicendo guarda guarda di che io posso saltare sì sì io posso saltare vedi vedi io adesso salto qui prendo la corda poi scrivo il numeretto lancio il tasso incrocio le gambe ecco però c'è da superare il mentale però c'è da superare il mentale come solamente si è una costruzione mi viene da dire una costruzione che deve fare passo dopo passo giorno dopo giorno nel senso che il mentale è come se fosse fa parte di noi e va accettato dobbiamo dire sempre la stessa cosa dobbiamo prendere un accordo col mentale c'è come se uno si deve mettere seduto e deve dire ok io adesso voglio questo ho deciso che posso farlo parlare col mentale piano piano fare del lavoro su se stessi mettere un sasso cioè fare un passo ogni giorno di più non è una cosa che da oggi al domani il mentale per magia cambia è una costruzione con dove diciamo la tua energia la devi indirizzare verso un obiettivo finale ma prima dell'obiettivo finale porsi dei piccoli obiettivi dei piccoli raggiungere esatto altrimenti se il mentale tutti i buoni domani io volo è impossibile però magari cioè mettersi l'obiettivo finale poi giorno per giorno mi viene come se se lei mi sta dicendo di fargli fare un tipo un taccuino dei piccoli raggiungimenti giornalieri no dei piccoli obiettivi non so iniziare con una piccola passeggiata con una piccola cosa e rendersi conto che lei può farlo mi viene questo diciamo che il record dei 100 metri ostacoli e 12 secondi ecco domani lei prova ai 12 secondi 100 metri ostacoli ovviamente non ci riesce e quindi butta tutte le ortiche no domani fa il giro dell'isolato esatto cinque minuti o qualunque obiettivo leggermente astuto leggermente avanzato il giorno dopo sempre di più va bene con questo bel messaggio salutiamo la ps la p e tutte le vite precedenti di daniela